sono marco giovannelli presidente dell'associazione nazionale della stampa online anso vi faccio i complimenti per questa ottava edizione del forum e delle giornaliste del mediterraneo un'iniziativa importante iniziativa che ha un grande valore per chi fa l'attività di tipo giornalistico sappiamo bene quanti cambiamenti abbiamo visti in questi anni e quanti ancora ne vedremo e quanti ne stiamo attraversando sicuramente in due dimensioni quella geopolitica a pochi chilometri di fatto dalla nostra italia ma anche quella tecnologica situazioni che mettono in continuazione l'elemento del cambiamento al centro della nostra riflessione del nostro dibattito ma soprattutto della nostra professione e quindi con l'augurio di guardare dentro queste situazioni dentro questi processi senza paura ma con il coraggio che contraddistingue chi fa la nostra professione vi auguro davvero buon lavoro